con pecco bagnaia pecco buongiorno anzi buonasera ciao pecco grazie peccolo grazie di aver accettato il mio invito allora è stato un gran premio pazzesco ma prima di parlare del gran premio voglio parlare di te come stai come sta andando il recupero ricordiamo pecco è caduta purtroppo nelle fp1 del gran premio della repubblica cieca frattura della tibia operato e insomma adesso pecco sta cercando di recuperare il medio come stai pecco è bene fortunatamente il dolore ormai è passato grazie presa la placca comunque alle viti che ci sono dentro la tibia nel piatto tibiale però la cosa difficile la riabilitazione perché un processo un po un po lungo e i passi in avanti che stiamo facendo di giorno in giorno sono solo tanti e si vedono c'è più che altro difetto molto e spero che continui così perché vorrei sentirmi bene ed essere totalmente indipendente con per la gamba il più presto possibile però al momento sono contento di come sta andando il recupero e secondo me siamo sulla buona strada per riuscire a tornare per misano ecco 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 già anticipato quindi l'obiettivo ovviamente tornare a misano quello è l'obiettivo l'obiettivo è tornare a misano che comunque è una data per la frattura che ho avuto io e comunque un po presto perché comunque il piatto tibiale vicino a molte articolazioni così e ci vorrebbero in teoria due mesi però però siete piloti ci proviamo e sono convinto che arriverò a misano che sono in forma che che riuscirò comunque a guidare al cento per cento ecco ma adesso per esempio riesci anche già a camminare ti muovi con le stampelle com'è la situazione purtroppo mi muovo con le stampelle perché aspettiamo proprio che si consolidi il tutto dobbiamo aspettare tre settimane dall'operazione per poter riappoggiare il piede per poter far carico sulla gamba ma adesso stiamo cercando di rinforzare tutti i muscoli prima senza senza l'appoggio quindi solo rinforzo tipo isometria queste cose qua però prima di riappoggiare la gamba ci vanno ancora due settimane ok 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 ma senti cosa fai fisioterapia tutti i giorni dura mi sa recuperare eh? eh tutti i giorni sì due ore e mezza al giorno fisioterapia e più esercizi vari per cercare di riprendere la tonicità del muscolo ma anche l'articolazione della caviglia e del ginocchio e stiamo facendo un ottimo lavoro secondo me si è anche già quasi sconfiata tutta solo la caviglia un po' di tutti i colori però sta reagendo molto bene bene intanto si stanno collegando in tantissimi in tantissimi tutti ti fanno naturalmente un in bocca al lupo gli auguri pronta guarigione Pietro dice Pecco sei un grande vogliamo vederti davanti a Marchez quindi insomma mica male esatto anche tu senti allora Pecco siccome arrivano già tante domande soprattutto sull'incidente di Zarco allora direi di partire da quello allora intanto faccio un piccolo riassunto io perché durante la MotoGP al decimo giro se non mi ricordo male all'ottavo all'ottavo al nono giro perché poi sono stati fatti 20 giri bravissimo Zarco ha fatto una manovra che io su moto.it in diretto ho definito scriteriata andando a superare esatto e poi però nel dopo corsa insomma l'avrai visto anche tu a Sky ai microfoni di Sky Valentino Rossi e Franco Morbidelli sono stati durissimi nei confronti di Zarco faccio una sintesi Morbidelli ha detto è un mezzo criminale una roba così e Valentino ha detto l'ha fatto apposta gli è passato davanti e ha frenato ma non si può fare a 310 km orari io ho fatto questo piccolo riassunto a te la palla adesso allora io penso che c'è sempre un po' di più questa moda di frenare e portarti davanti la traiettoria di chi superi è una cosa che anche in moto 3 si vede tantissimo ed è un qualcosa che io trovo veramente pericoloso a me è sempre stato insegnato che quando fai un sorpasso comunque superi senza andare ad ostacolare troppo il pilota che è davanti perché comunque è giusto che sia così però purtroppo vediamo sempre più spesso e sempre più spesso anche in moto 3 questa cosa di di staccare e andare a tagliare la strada al pilota che è davanti per non dar proprio modo di essere ripassati comunque per non dar modo di farsi incrociare e anzi sul Zarco penso che abbia visto più o meno la stessa cosa perché io penso abbia sbagliato perché se si arriva veramente forte stavo facendo la traiettoria proprio che neanche lontanamente vai lì con la nostra moto perché non è neanche una curva quella quindi si è allargato veramente tanto e penso l'abbia fatto proprio per non per non fare ripassare Franco che sapeva che tanto staccava molto forte alla staccata della 3 e quindi penso che sia stata una cosa sicuramente non voleva creare tutto questo però secondo me si poteva evitare ecco pecco vabbè avrei visto le immagini sono state pazzesche e anche parlando con Valentino molte ore dopo quanto è avvenuto insomma lui era ancora scioccato era ancora un po' spaventato ma pensa a quanto ha scioccato noi a guardarla dalla televisione pensa a lui che se l'è vista proprio in faccia penso sia veramente dura ah sì sì ma come si fa a tornare in moto perché noi umani io sarei andato a casa chiuso tutto e rimasto a letto per dieci anni di fine secondo me è la concentrazione quella lì noi siamo abituati comunque a scendere in pista e dare al 100% e quindi è un qualcosa che ti dimentichi abbastanza in fretta però poi quando scendi di nuovo che ci ripensi un attimo fa sempre effetto sì sì e senti anche già che siamo in tema di incidenti anche quello della moto 2 è stato pazzesco allora in questo caso è la dinamica molto differente al quarto giro all'inizio del quarto giro Enea Bastianini ha perso il controllo della moto uscendo dalla 1 in un punto dove già si mette credo la terza marcia però tu magari lo puoi dire meglio di me secondo me è seconda sì 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 ancora in seconda comunque ha perso il controllo della moto è caduto la moto purtroppo è rimasta in mezzo alla pista anche il pilota Bastianini fortunatamente è riuscito ad andare nella via di fuga la moto è rimasta in pista naturalmente dietro di lui c'era il gruppone di piloti si sono allargati a ventaglio ma Charina all'improvviso se l'è trovata davanti e anche in questo caso il volo è stato pazzesco fortunatamente anche in questo caso senza nulla di grande come l'hai vista tu? eh allora diciamo che quella è stata proprio non intenzionale perché Enea stava spingendo per essere riprestati davanti perché stava perdendo un po' di posizioni era anche Bezzecchi l'aveva appena superato e quindi stava cercando di spingere per rimanere lì col gruppo davanti visto che Martina aveva già preso penso sei decimi di vantaggio e quindi è uscito dalla prima curva che è una curva dove comunque scollina anche un po' quindi dietro è un po' al limite l'ha lanciato e una volta che la moto rimane in mezzo per quanto tu riesca a schivarla è molto difficile che uno che un pilota non riesca a prenderla perché ti si toglie uno davanti di improvviso e te non fai proprio in tempo a far nulla non fai niente è già successo purtroppo tantissime volte questa cosa questa dinamica di caduta qui sì sì assolutamente senti tanti dicono leggo un lettore che si chiama quando ci vuoi ci vuoi quindi naturalmente uno pseudonimo dice Zarco meriterebbe almeno una giornata di squalifica tu sei d'accordo? ma alla fine io sono un pilota quindi mi occupo semplicemente di andare in moto e c'è gente che si occupa per queste cose qua quindi non ho voce in capitolo voce in capitolo per questo vedremo cosa se dirà qualcosa per questa situazione qui ecco adesso prima di parlare della gara Pecco ti coinvolgo nell'altro grande argomento del weekend che è stato naturalmente il divorzio annunciato da Dovizioso con la Ducati allora adesso non ti voglio coinvolgere in questioni di mercato robe tu insomma che non puoi svelare allora ti chiedo solo questo intanto che effetto ti ha fatto sentire Dovizioso fare questo tipo di annuncio? ma non me lo aspettavo sicuramente così era una cosa che c'era nell'aria purtroppo da un po' di tempo però non mi aspettavo sinceramente che venisse fuori in questo moto qua alla fine ero a guardare mi sembra la moto 3 o la moto 2 non mi ricordo a che turno fosse sì c'erano le qualifiche erano pronte la moto 3 per le qualifiche per la Q1 ecco ed è uscito Battistella dal camion Ducati Battistella scusami è il manager di Andrea Dovizioso per chi non lo sapesse vai pure sì ha dichiarato questa cosa qua e sinceramente non me l'aspettavo e dispiace perché comunque Dovi è un pilota una leggenda del nostro sport si può dire tranquillamente e ha fatto diventare la Ducati una moto che può vincere tutte le domeniche e sicuramente interrompere un rapporto così di 8 anni non è sicuramente stato facile eh no senti naturalmente si fa anche il tuo nome per sostituirlo io ho fatto un sondaggio sui social dove chiedevo allora fuori Dovizioso chi prenderesti tra Bagnaglia, Zarco e Lorenzo che sono i tre nomi che si fanno per quel posto in Ducati allora il 56% dei lettori ha detto che vorrebbe Bagnaglia in quel posto lì il 24% Lorenzo e il 20% Zarco quindi insomma quasi un plebiscito per te Pecco ma io sono con i vostri lettori allora sono cose che purtroppo al momento io non posso fare niente perché sono un po' a casa e dovrò stare a casa ancora per una gara quindi non e purtroppo quando dovranno scegliere si sceglierà sulle feeling che ho dato magari sulla prima gara delle prime due gare che abbiamo fatto ai Reds e spero che spero che abbiano cioè che io abbia fatto quello che servirà per poter andare lì però al momento ancora non so dirvi niente sicuramente sarò su una Ducati il prossimo anno quello sì e questo è certo perché l'hanno detto anche i vertici Ducati ma tu ti senti pronto per una responsabilità così grande di andare in un team ufficiale e sostituire un pilota che comunque ha lottato per il titolo per tre anni consecutivi e forse lo farà anche quest'anno ma allora il team ufficiale è sempre la massima ambizione che un pilota può avere nel nostro sport il team ufficiale c'è solo i MotoGP quindi è una cosa incredibile soprattutto avere dietro un'azienda come Ducati è solo una grandissima è solo molto bella come cosa è una grandissima soddisfazione immagino però sicuramente porterà molte pressioni che bisognerà gestire e fortunatamente io sono circondato da persone che mi aiutano tanto in questo e quindi non è un qualcosa che mi spaventa troppo anzi e sono sicuro che comunque potremmo arrivare a fare dei grandi risultati alla fine già a Erez se non mi si fosse rotto il motore davanti a secondi e a Bernon secondo me per come era partito il weekend avremmo fatto una bella gara come anche qui in Austria secondo me con il nostro potenziale avremmo fatto una gran gara però ovviamente tutti tutti insieme però penso che secondo me è solo una grandissima soddisfazione poter arrivare nel team ufficiale ecco Francisco ti saluta dal Brasile e ti auguro buon recupero dal Brasile quindi grazie Francisco che ci segue fin da là senti allora adesso parliamo invece della gara di oggi allora ha vinto Dovizioso Dovizioso che tra l'altro nei giorni scorsi ha detto ho studiato attentamente i dati di Bagnaglia e di Zarco per quello che hanno fatto Fire Eds insomma ho dovuto cambiare un po' il modo di frenare quindi insomma dai c'è anche un pochino di merito tuo nella vittoria di Dovizioso di oggi mettiamola così secondo me era tutto il weekend era senza rivali il Dovi oggi e era nettamente più veloce sempre quasi tutte le sessioni a parte con lui aveva detto il Poire Spargarò però Poire Spargarò alla fine molto spesso nelle prove è molto veloce e poi in gara fa un po' di casino in più per la seconda di partenza non aveva neanche più la gomma media che era quella che aveva usato fino a venerdì quindi ha dovuto fare la gara con la soft e probabilmente non si è trovato bene quanto con la media Ecco scusami Pecco spieghiamo un po' perché tanti lo chiedono ma com'è possibile chiedono che un pilota non abbia la gomma per fare la gara? spiegalo tu come funziona è che praticamente ogni weekend ci danno un tot di gomme da utilizzare solitamente sono cinque o sei per mescola e alla fine del weekend arrivi sempre che comunque non se devi fare i time attack per entrare in Q2 o comunque per le qualifiche e altre due gomme per dire facciamo un esempio con la soft di solito la soft ne danno sei e te ne usi una per l'FP2 che fai la prova per magari la distanza a gara o fare un time attack ne usi due per l'FP3 per entrare in Q2 direttamente ne usi altre due per la qualifica e ne usi solo più una per la gara quindi alla fine bene o male le gomme rimangono sempre solo quelle ok chiarissimo sei stato chiarissimo ecco ma al di là dei problemi di Paul Spargaro e dei suoi sbagli perché purtroppo ne commette sempre parecchi Dovizioso dove ha fatto la differenza oggi secondo te? ma secondo me oggi si vedeva proprio che guidava totalmente rilassato e tranquillo rispetto tipo all'anno scorso che ha dovuto vincere contro Mark Marquez e si vedeva che oggi ne aveva proprio nettamente di più staccava fortissimo aveva un grandissimo controllo della moto istaccata in ingresso e in trazione veramente riusciva a sfruttare tutto quello che la nostra moto ci può dare quindi la differenza l'ha fatta soprattutto da Metagarin avanti che ha fatto quello strappettino per andarsene un po' via da Miller e da Mir e poi non ha più dovuto neanche chiudere o spingere per gli ultimi giri Ecco intanto Michele dice Grande Pecco l'unico che può sostituire il Dovi Forza Pecco Grazie Senti Pecco però la Suzuki a me è impressionato e Rins se non cadeva è vero che è caduto perché stava esagerando però forse lui poteva addirittura impensare il Dovi e anche Mir se fosse riuscito a passare Miller prima Io penso che Rins oggi sarebbe stato l'unico rivale di Dovi perché ne aveva tanto a Suzuki si vedeva che nonostante avesse meno motore probabilmente impennava meno in certe curve e riusciva ad accelerare bene lo stesso e in più Rins staccava molto forte ma faceva davvero forte il T3 in terzo settore e guadagnava sempre molto in quella fase lì quindi secondo me poteva impensare molto il Dovi ma ha fatto due errori nella stessa curva una volta è riuscito a tenerla e invece due giri dopo purtroppo si è steso però Mir secondo me non aveva permette a lottare con Dovi fino alla fine Ok e invece cosa pensi del sorpasso decisivo finale tra Miller e Mir? Ricordo che anche Miller ha dovuto usare una gomma che non avrebbe voluto usare ha dovuto usare una soffice all'interiore perché non ne aveva più di medie come la valuti tu? Secondo me lì se non avesse chiuso la traiettoria aveva già abbastanza spazio per far sì che Mir non sarebbe entrato quindi non serviva secondo me a chiudere così tanto la traiettoria e quando l'ha chiusa quando è entrato dentro poi gli ha iniziato a muovere davanti però l'unica roba che posso dirti io è che da casa fai veramente fatica sicuramente Jack ti sta a spiegare meglio cosa è successo nella penultima curva però da quello che è sembrato era che era un po' troppo stretto e quindi ha fatto fatica a farla girare Beh pensa Pecco che noi giornalisti giudichiamo da in questo caso anche noi da caso dalla sala stampa senza neanche sapere andare in moto quindi E infatti siete pochi ma buoni Bene, tra l'altro Miller ieri è stato molto carino nei tuoi confronti lui ha detto commentando quanto accaduto con Dovizioso ha detto mi dispiace che non avrò una leggenda ha detto lui che sono le parole che hai detto tu prima come Dovizioso al boxer ma a questo punto spero che sia Pecco a venire con me perché dice vado molto d'accordo con lui ed è molto forte quindi il rapporto con Miller è molto buono Sì sì ci sono compagno di squadra ormai da questo secondo anno ci conosciamo da tanti anni perché alla fine quando io facevo il Cev lui era al Cev con me quindi ci conosciamo dal 2011 tra l'altro la mia prima vittoria al Cev c'era lui con me sul podio è un pilota forte molto alla fine secondo me nel box in MotoGP fai fatica a chiacchierare molto perché perché c'è tanto lavoro da fare e fai fatica però comunque si chiacchiera e parliamo delle gomme parliamo del cross perché lui è appassionato molto di motocross o comunque di altre cose che facciamo a casa quindi il rapporto è abbastanza buono tra l'altro a proposito di Miller racconto un aneddoto che ci ha raccontato una volta Petrucci ha detto che Petrucci cioè che Miller una volta ha preso in giro sia Petrucci che Dovizioso perché girano spesso con la 250 e invece lui gira con la 450 e dice ma cosa girate con quelle biciclettine lì bisogna girare con le moto vere è vero eh ma Jack ha la pista in casa eh vedi infatti non penso neanche abbia fatto un giorno di quarantena Jack tanto aveva la pista in casa si allenava lì e tutti i giorni dava con la moto da cross e penso che che riuscire ad avere il controllo di una moto da cross 4 e mezzo sia molto positivo soprattutto per chi va in moto da velocità perché fisicamente fa un gran lavoro senti prima di tornare alla gara però Gianfranco ti fa una domanda per Pecco stessa moto le differenze fra Prama che l'ufficiale qual è? nessuna beh bravo nessuna abbiamo tutti e quattro le moto ufficiali le 2020 e quindi abbiamo tutti la stessa moto ok benissimo allora andiamo avanti con il commento della gara al quarto posto Brad Binder e al quinto Valentino Rossi che è arrivato proprio in scia a Binder allora anche Binder insomma diciamo che una bella sportellata gliel'ha data Valentino l'ha portato molto largo tu come giudichi Binder? come giudichi quel sorpasso? e vai tu allora io Binder lo conosco anche lui da tanti anni e lui ha un po' questo modo qua di superare e alla fine anche in moto 2 tutte le volte che mi sono trovato in lotta una sportellata l'ho sempre presa quindi è un pilota molto aggressivo molto forte si potesse assolutamente fortissimo però ha già questo modo di affrontare le lotte in modo molto aggressivo e oggi su Vale gli ha dato veramente una bella sportellata che gli ha tolto la possibilità di provare a lottare per il podio secondo me perché Vale comunque aveva un bel passo addirittura per il podio dici tu? secondo me se fosse riuscito a stare magari lì davanti attaccato a loro e poteva allora di motore avrebbe fatto molta fatica però bene o male riusciva a tenere un bel passo e secondo me non lontano dal podio comunque sarebbe riuscito ad arrivare e la gara di Valentino come la giudichi? buona? molto buona? purtroppo ha sempre il limite in qualifica Valentino perché poi in gara gira forte si purtroppo è stato strano che col passo che riusciva a avere durante le prove non sia riuscito a entrare in co2 direttamente e comunque se passi dalla cuno hai meno gomme fai sempre molta fatica ad essere veloce per la co2 ogni tanto ti riesce ma fai fatica e quindi bisognerebbe sempre riuscire a entrare in co2 e quindi secondo me se Valer fosse riuscito a partire nelle prime due file oggi sarebbe stata diversa la gara perché non avrebbe perso tempo con Binder o comunque con nella prima fase di gara che anche con Vignales stava perdendo un po' di tempo ma quindi ormai è diventato sempre più importante partire davanti lo è sempre stato ma adesso mi sembra più che in passato soprattutto poi con una Yamaha con la quale fai fatica a passare in rettilineo giusto? esatto sì penso che ormai se parti già in terza fila inizi a fare fatica riesci comunque a fare una bella gara perché riesci però è difficile poi riuscire a lottare per la vittoria comunque senza avere problemi di gomma o così quindi secondo me parti nelle prime due file è diventato quasi un obbligo ormai MotoGP per portare alla vittoria o al podio senti tanti ti chiedono di Mark Marquez se ne metto assieme due domande una cosa ha lui più degli altri se ha qualcosa più degli altri e se con la Ducati vincerebbe tutto questo è un altro di quegli argomenti che fanno sempre chiacchierare ma intanto è con la Honda quindi lasciamolo in onda e finchè rimanevano in onda sappiamo che ha la moto fatta esattamente per lui per il suo stile di guida è un pilota assolutamente il più forte di tutti bisogno dirlo perché comunque vince il mondiale da quattro anni e mi hanno sempre insegnato che chi vince il titolo è il pilota più forte di tutti quindi al momento è così e già che riesce a sfruttare al 100% tutto quello che ha dalle gomme fino alla moto quindi al momento è... a Erez era uno step sopra soprattutto la prima gara anche perché la seconda poi si aggiera però era veramente veloce la prima gara di Erez ecco, tanti ti chiedono delle gomme come funzionano in particolare c'è questa domanda che mi fa sorridere perché mi piace dice come è possibile guidare di traverso con queste gomme senza bruciarle chi guida pulito le distrugge questa è la sua valutazione naturalmente di masca o qualcosa del genere ma guidare pulito è sempre la miglior cosa che si possa fare però la cosa è che se staccata riesci a metterla un po' di traverso comunque riesci a farla anche girare di più la moto quindi è un aiuto e se tu fai traverso di staccata non vai a consumare la gomma se la consumi non la consumi in una zona dove non ti dà fastidio per il grip mentre invece in accelerazione bisogna fare veramente molta attenzione all'apertura del gas bisogna essere molto bravi a gestire la potenza e lo spin perché se la moto inizia a scivolare dietro la mangi proprio tanto quindi è molto importante essere bravi a gestire tutto col gas che bello ecco guarda spieghi in una maniera perfetta sei prontissimo per sostituire il Dovi questa è una battuta che faccio io naturalmente bravissimo senti introduco l'argomento moto 2 perché con una domanda marini può fare il salto in moto gp nel 2021 cioè al di là di questioni contrattuali secondo te come guida come capacità è pronto per fare il salto? io penso proprio di sì l'ho visto veramente veramente in forma quest'anno e già dagli allenamenti che facevamo prima che riprendesse la stagione avevo visto un maro molto motivato molto forte di testa e lo sta dimostrando tanto è che oggi è stato bravo perché secondo me ha fatto una bella gara finire secondo con un martin comunque che era veramente veramente forte ha dimostrato di avere anche l'intelligenza giusta e poi lo vedo bene proprio come guida penso che possa fare il salto in moto gp ormai è diventato più pronto rispetto all'anno scorso ma la sfida per il mondiale è tra lui e bastianini allora ricordo che marini è primo in classifica bastianini è secondo a 5 punti e poi c'è martin a 19 punti se non ricordo male io dico che la sfida è tra i primi tre in campionato al momento ok spero che luca riesca a continuare così perché secondo me se lo merita ha fatto dei grandi sacrifici è diventato veramente un pilota veloce e forte e penso che si meriti di passare in moto gp ecco invece l'ultima considerazione sulla moto 3 un gran casino il podio ha cambiato due o tre volte i piloti che sono andati sul verde all'ultimo giro tra cui Celestino Vietti che poi è arrivato settimo se non ricordo male sesto sesto e settimo arbolino ha vinto Arenas che ha un bel vantaggio anche in classifica tu come la vedi la moto 3 in generale e poi aggiungo una considerazione allora io credo che i piloti italiani per quanto sono forti potrebbero vincere tutte le domeniche e alla fine però vinciamo poco questa è la mia considerazione come la vedi tu? allora io parto dal dire che secondo me Arenas ha la guida perfetta per la moto 3 di oggi come adesso la moto 3 perché? perché partendo dal team ha un ottimo team la sua moto è molto veloce e lui riesce a sfruttare al 100% in più ha l'aggressività giusta per poter lottare tant'è che ha vinto 3 su 5 è veramente forte nella fase durante tutta la gara è un po' quella guida che cercavo di adottare io quando ero in moto 3 ha l'aggressività di stare sempre nei primi 3 fissi non finire mai un po' più indietro perché sennò ti imbottivano ed era un casino e lui è molto bravo in questo e poi secondo me Celestino oggi ha fatto una gara veramente spaziale è stato fortissimo c'è stata un po' di sfortuna secondo me perché Raul Fernandez gli ha dato veramente una sportellata abbastanza inutile l'ha buttato tredicesimo vero ed è stato l'unico ed è stato l'unico che comunque da così indietro è riuscito in un giro penso a ritornare su e secondo me il Poggio se lo meritava ma quando il moto 3 ormai è diventato veramente un casino e bisogna essere veramente penso anche un po' ignoranti negli ultimi due giri di gara veramente veramente troppo un casino allora Pecco ti saluto con questa considerazione di Amedeo vediamo se la trovo bravo Pecco cerca di non cambiare troppo il moto mondiale ha bisogno di persone come te grazie cercherò di rimanere così sempre non ho dubbi su questa cosa qua non ho dubbi Pecco io ti ringrazio moltissimo è stato per me veramente un piacere chiacchierare con te però insomma adesso voglio vederti in pista bene bello bello il telefono ma insomma la pista è un'altra cosa grazie mille ciao Pecco buona serata ciao a tutti ciao grazie eccoci qua amici appassionati di moto credo sia stata un'altra diretta divertente Pecco è davvero una persona molto piacevole veramente piacevole ed è un gran pilota l'ha dimostrato in moto 2 l'ha dimostrato in moto 3 prima l'ha dimostrato in moto 2 vincendo il mondiale e fra poco lo dimostrerà anche in moto gp l'ha già dimostrato cioè facendo un po' di high red che purtroppo gli è stato tolto dalla rottura della moto quando cevo cevo dice troppo poca mezz'ora allora troppo poca mezz'ora però domani sera alle ore 18 dopo gp con Nico Cereghini l'ingegnere Giulio Bernardelle e un ospite molto gradito che tornerà con noi è stato con noi settimana scorsa quindi è facile sapere chi è io ringrazio Luciano Lombardi in regia che come sempre fa miracoli e ringrazio tutto moto.it per la passione che mette nel moto mondiale e in tutto il settore delle moto ciao a tutti seguiteci sempre ciao a tutti grazie